Esultano i ribelli di Benghazi, l'Unione Europea aprirà a breve un ufficio di rappresentanza nella loro roccaforte. Non ancora un riconoscimento ufficiale per le autorità provvisorie presenti nella seconda città libica, ma un punto d'appoggio per garantire maggiore assistenza, organizzare gli aiuti e dare una mano verso una transizione democratica. Per sostenere la società civile, il Consiglio Nazionale di Transizione e Mahboud Jibril con cui abbiamo avuto numerosi incontri, per sostenere la riforma nel settore della sicurezza e costruire ciò che i libici chiedono. Francia, Italia, Qatar e Gambia hanno già riconosciuto Mahboud Jibril e il CNT come rappresentante legittimo del popolo libico al posto del regime di Muammar Gheddafi al potere da oltre 40 anni. Questa settimana la visita del capo del CNT a Washington. Perché la guerra di Libia si combatte anche sul fronte diplomatico. Il procuratore della Corte Penale Internazionale sta lavorando per l'incriminazione di Gheddafi e un ordine di arresto potrebbe arrivare entro la fine del mese.